Guardate a curva, fa così, a curva fa così, noi altri dobbiamo essere qui, eh? Che è una differenza da... Camilla, quant'è questo? Sarà mezzo buadì? Tre quarti di buadì? Vabbè, comunque lo appoggiamo qui, come monito per non... Dimenticare! Va bene, va bene. Ragionateci sopra. Ci ragioniamo. Io vi dico che vuoi un po' di senso civico, perché se noi tutti saremmo, se stando vi... Se noi... Ma non è possibile. Non sei colpa mia che mi ostina a parlar la lingua morta.